Ma certo lui ha inventato tante cose perché il freno per le navi di adesso viene dal freno che fece lui a Montecelio per fare ai piccoli aerei fargli atterrare meno spazio. L'idea era quella, chiaramente poi cambiano i cavi e così il pilota automatico per non tenere sempre il volantino in mano l'ha inventato lui. Insieme anche all'ingegner Cerini e poi si fece il ride Milano Mosca senza scalo, è stato uno dei primi voli, diciamo passeggeri, ha inventato tante cose per l'aeronautica.